Il dramma lirico in tre atti e cinque quadri debutterà sabato 21 alle 20 e sarà in scena fino a domenica 29. L'omaggio a Giacomo Puccini nel Centenario della Morte riporta a Turandò al Teatro Massimo di Palermo in un nuovo allestimento con la regia di Alessandro Talevi, la direzione di Carlo Goldstein e l'orchestra, il coro e il coro di voci bianche del Teatro Massimo. Il debutto del nuovo allestimento sarà preceduto da una serie di appuntamenti. Giovedì 12 alle 18 un incontro di introduzione all'ascolto dell'opera con ingresso libero a cura dell'Associazione Amici del Teatro Massimo. Martedì 17 alle 17.30 la scrittrice e drammaturga Beatrice Monroi approfondirà il libretto di Turandò con gli attori Giuseppe Cutino e Sabrina Petix. I biglietti costeranno 3 euro. Venerdì 20 alle 18.30 la prova generale è aperta al pubblico a sostegno della Fondazione AIRC con un contributo minimo di 15 euro. Sabato 21 alle 17.30 Giovanni Gavazzeni, critico musicale e musicologo, e Ilaria Grippaudo, ricercatrice di storia della musica all'Università di Palermo, presenteranno il volume di Gianandrea Gavazzeni, La minuziosa verità, scritti su Giacomo Puccini.